Salve amici di Advents Italian, in questo video andremo a vedere la prova di competenza linguistica dell'esame Celli 3 livello B2 del giugno 2004. Questa parte dura 45 minuti, è composta da due testi da compilare con solo una parola e successivamente ci sono delle frasi da connettere tra di loro all'interno di una frase usando congiunzioni, preposizioni, eccetera e non ripetendo le informazioni. E poi c'è l'ultimo esercizio dove ci sono alcune frasi con degli spazi da completare con una parola. Scusate, la parola è già data ma da un verbio dovete trarre un aggettivo, un sostantivo, quindi dovete cambiare la forma della parola. Qua abbiamo visto, cordiale, mi ha salutato molto cordialmente. Da cordiale si cerca di trarre un'altra parola che abbia significato dopo averla messa all'interno della frase, nello spazio vuoto. In questo video andremo a vedere solo la prima parte, ossia i due testi e poi successivamente anche l'altro esercizio in un altro video. In fondo al video potete anche vedere le risposte. Prima però cerchiamo di rispondere ragionandoci un po' su e poi successivamente andremo a vedere anche le risposte. Leggiamo il primo esercizio. Disaventura in auto Una mattina di gennaio, mentre andavo al lavoro, ho acceso lo sbrinatore, sbrinatore elettrico del lunotto, il vetro era un po' appannato. Quindi si accende lo sbrinatore elettrico quando il vetro è appannato, quindi io l'ho acceso perché il vetro era un po' appannato. Dopo 5 minuti ho cominciato a sentire, quindi lui ha acceso lo sbrinatore elettrico e 5 minuti ho cominciato a sentire, quindi dopo 5 minuti che l'ha acceso, dopo 5 minuti, ho cominciato a sentire dibruciato, puzza dibruciato diciamo. Sento puzza dibruciato e nello specchietto retrovisore ho visto un filo fumo nel abitacolo. Mi fermata, spaventata, mi sono fermata, spaventata per cercare di individuare l'origine del fumo ma non ho trovato nulla o niente. Prima di rispondere cercate di leggere la parte davanti e la parte dietro perché vi aiuta a capire il significato, il contesto della frase e vi aiuta a rispondere in modo corretto perché spesso voi sapete la risposta ma rispondete in modo sbagliato perché non avete capito il contesto. Ad esempio, invece di dire il mio libro, dite il suo libro perché non avete visto ad esempio le virgolette che dimostrano che lui sta parlando al primo singolare, sta parlando lui, non stiamo parlando noi per lui. Quindi fate molta molta attenzione. Per cercare di individuare l'origine del fumo ma non ho trovato nulla. Ho riacceso la macchina, mi sono rimessa in strada e dopo secondi ho sentito un botto, dopo pochi secondi. O dopo alcuni secondi, ho sentito un botto, il lunotto posteriore era esploso andando in mille pezzi. Va in mille pezzi, ad esempio ho rotto il bicchiere oppure il vaso è andato in mille pezzi perché l'ho rotto. Quando qualcosa si rompe va in mille pezzi. Fortunatamente in auto ero sola ma se avessi avuto passeggeri sui sedili posteriori si sarebbero fatti sicuramente molto male. Se avessi avuto si sarebbero fatti. La sostituzione dell'unotto è costata 250 euro che nessuno mi ha rimborsato. Genova 2004, capitale europea della cultura. Allora, secondo esercizio, quindi Genova celebra il 2004 come capitale europea della cultura, decisa a stupire con un fittissimo calendario di eventi culturali, mostre, convegni, festival, incontri. Genova desidera far conoscere il suo passato ma ci tiene a dimostrare che è proiettata nel futuro. E' la nuova immagine della città che i genovesi vogliono comunicare. E' volta ci credono. E' questa volta ci credono. Dopo l'anterna, il simbolo antico della città, e nelle sue fortificazioni inaugurato un museo della Genovesità. e nelle fortificazioni verrà inaugurato un museo della Genovesità. La città continua a puntare sull'industria, si continua a fare qualcosa, si continua a puntare sull'industria e sul porto rinnovato, ma intanto l'intera collina degli erzelli alle spalle dell'aeroporto, alle spalle di qualcosa. Quindi l'aeroporto di più l'aeroporto dell'aeroporto. Verrà trasformata da Renzo Piano in un parco tecnologico, ma non basta. Potrà anche vantarsi di essere la prima città d'Italia con un museo del design perché Fondo Industrial Design è nato qui perché in fondo l'industria del design è nato qui, con la Vespa e i Blue Jeans. Genova, la Superba, ci ha anche la storia di un'epoca d'oro, ci racconta anche la storia di un'epoca d'oro, raccontare una storia dei transatlantici e quella nostalgica degli emigranti che per le Marche, quindi quella ci racconta la storia di un'epoca, quella dei transatlantici e quella nostalgica degli emigranti che per le Marche, che partivano per le Marche. Il suo museo, il suo museo del mare, nella Darzena, nello storico cantiere Galata, venivano costruite le galee, dove venivano costruite le galee sarà il grande d'Europa, il più grande d'Europa. Questa era la prima parte, nel video successivo vedremo anche gli altri due esercizi. Vi faccio vedere adesso anche le risposte di questa parte, sono le risposte del C1. avete un punto per ogni risposta corretta e 0 punti quando non rispondete o rispondete in modo sbagliato. Quindi cosa significa? Vi conviene rispondere, perché non venite penalizzati dalle risposte sbagliate, non prendete nessun meno 1. Quindi provate a rispondere, anche se in alcuni casi può non essere proprio come qui la risposta, potrebbero comunque considerarla giusta perché potrebbe aver senso. L'importante è cercare di mettere sempre una parola che dia senso alla frase e non le tolga il senso. Se fate questo può essere spesso può essere spesso giusta. Quindi rispondete sempre. Adesso io vi ringrazio di avermi seguito. vi invito a mettere un mi piace al video e a lasciare l'iscrizione se il video vi è piaciuto. All'interno del mio canale potete trovare anche altri contenuti utili riguardanti la prova del Celi 3 ma anche quella Celi 2 e altri esami linguistici dell'italiano per stranieri che vi aiuteranno a prepararvi al meglio per i vostri esami. Vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nel prossimo video. Ciao!